Ok, vediamo di calibrare un po' la bussola di questo drone. Accendiamo il telecomando. Dopodiché accendiamo il drone. Nella scritta mi dice di calibrare il Compass 1. Eseguiamo. Ok, calibrato il Compass 1, vediamo di calibrare il Compass 2. La cosa la vedo dura. Con una sola mano, con tutto questo metallo comunque. Impiegherò un po' più del tempo voluto. Allora, cerriamo uno così. Ci sarà riuscito lo stesso? Sì. E ora mi lampeggia in circa di satelliti. Per il momento siamo a zero. Vediamo un pochino. Il telecomando già sta a 4. L'ho alzato. 4 anche il drone. Dovremmo arrivare almeno a 12 in totale. Quindi 6 e 6. Solo che il povero drone si trova in una griglia tutta di ferro. Vediamo un po'. Eh, già siamo 5 e 5. Fra un pochino arriveremo almeno a 6 e 6. Difficile a credersi, ma sto facendo tutto. Ho armato i motori. Non ce ne andare. E mi fermo qui. ikhosta. La mostrammi Representatives. Ho armato i motori.